Cambio programmazione Mediaset maggio, Maria De Siferma, Terra Amara a rischio. Cambio programmazione sulla rete Mediaset nel corso del mese di maggio. Le novità riguarderanno l'appuntamento con le trasmissioni condotte da Maria De Filippi, per la conduttrice. Infatti, arriverà il momento di salutare il suo pubblico. Possibili cambiamenti in arrivo anche per Terra Amara, la SOP turca che in questi mesi sta ottenendo dei risultati ed ascolto bene al di sopra delle più rose aspettative indaitime. Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di maggio prevede lo stop per Maria De Filippi e i suoi programmi. La conduttrice andrà in pausa dopo una stagione che l'ha segnata particolarmente. Caratterizzata dalla morte improvvisa del suo compagno di vita, Maurizio Costanzo. Un periodo non facile per la conduttrice che, per circa dieci giorni, è stata assente sul piccolo schermo. Salvo puoi riprendere in mano le redini delle sue trasmissioni e portare avanti questa stagione televisiva. Con il mese di maggio si arriverà allo stop in day time per uomini e donne, di cui entro fine mese saranno trasmesse le ultime puntate di questa fortunatissima edizione. Premiata ancora una volta dal pubblico con ottimi risultati d'ascolto e picchi del 33% di share. Sabato 13 maggio, invece, è prevista la messa in onda della finalissima di Amici 22, il talent show. Che porta sempre la firma di Maria De Filippi, saluterà il suo pubblico in prime time dopo una stagione trionfante che ha permesso alla conduttrice di consolidare la propria leadership sul pubblico del sabato sera. Con lo stop di Uomini e Donne e Amici 22, bisognerà attendere il mese di settembre per rivedere in video Maria De Filippi dopo la lunga pausa estiva. Inoltre, il cambio in programmazione Mediaset del prossimo maggio potrebbe riguardare anche la messa in onda della SOP Terra Amara. Stando a quanto apprende Blasting News, da maggio sono previste le nuove puntate di scene da un matrimonio. Il programma condotto da Anna Tatangino che potrebbe essere trasmesso di nuovo il sabato pomeriggio. Di conseguenza, con il ritorno del programma dedicato al giorno più bello di giovani coppie italiane. Ecco che a farne le spese potrebbe essere la messa in onda di terra amara. La SOP Turca potrebbe essere cancellata dal palinsesto del sabato oppure ridotta a soli 30 minuti. Dalle 16 alle 16 e 30 circa, quando poi la linea passerebbe a Verissimo. La sopita è stata la messa in onda di terra amare.